ciao a tutti oggi vorrei parlare un po di blocchi mentali ovvero quella quella cosa che succede quando soprattutto si studia un software molto complesso e professionale come può essere logic i blocchi mentali avvengono soprattutto quando si capisce di non sapere chi studia tanto sa di non sapere e quindi viene a mancare un po quella naturalezza e quella incoscienza che ci fa mettere le mani sulle cose senza senza cognizioni di causa e all'inizio che io utilizzavo logic ho mandato delle tracce completamente sbagliate come livelli come 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 tecnica come teoria anche eppure nonostante questo mi sono state pubblicate cosa che oggi forse non farei più in quel modo lì ma sta di fatto che per caratteri sono una persona che prova sbaglia ma continua a provare ci sono molti purtroppo oggi ci sono purtroppo per fortuna oggi ci sono molti video tutorial oggi ci sono molte molte conoscenze diramate sui social su internet e tutti dicono un po tutto e anche questo incrementa la paura se noi ad esempio parliamo di gain staging o mio dio quante cose ci sono equalizzazioni compressioni va prima la compressione o prima l'equalizzazione e poi come si regola il compressore perché io ho visto che quell'arco fa così insomma io io vorrei farvi vedere un po di cose random giusto per toglierci delle paure partiamo dal gain staging sto famoso gain staging di cui cioè alla fine per registrare in logic basta registrare bene con un buon segnale poi tutto il resto sono perdonatemi segmentali per farlo propriamente si va qua nella control bar tasto destro customize control bar in display e andiamo abilitare quello che in produce di default cioè il monitoraggio del segnale in pre father con questo bottone qua che andremo a visualizzare qua noi possiamo monitorare il segnale prima del father di default in logic il segnale è monitorato dopo il father cosa significa che è monitorato dopo il father significa che se io vado a vedere il mio segnale qua e abbasso il father ecco che mi sembrerà che non arriva assolutamente niente in realtà non è così per monitorare correttamente il segnale invece è meglio se abilito il pre fa dal meeting ovvero il segnale prima del father così facendo anche se abbasso il father il segnale sarà sempre lì e il segnale la quantità di segnale che devo registrare deve essere intorno al giallo al massimo del mio volume se arrivano rosso e troppo dove si regola questo segnale si regola a monte di logic nella mia interfaccia audio nella mia pedaliera nella mia amplificatore in questo caso qua ad esempio che sto usando l'interfaccia interna del mac lo faccio in suono input ecco qua che io vado a regolare il mio segnale che non vada mai sopra il giallo e sopra il giallo mai e comunque il giallo devo raggiungerlo quando quando spingo quando sto facendo la solo quando devo quando canto un ritornello con questo tipo di segnale qua una volta che ho verificato la mia quantità di segnale io posso serenamente tornare in post father e registrare adesso io sto registrando e il mio segnale è molto buono io con questo già ho di tutto adesso io sto registrando perché innanzitutto sto registrando a 24 bit perché logic di default è a 24 bit e ne abbiamo 24 di bit di materiale abbiamo registrato 24 bit e lo possiamo verificare anche qua e quindi abbiamo un sacco di informazioni audio a cui attingere anche se avessimo registrato con un gate inferiore di questo tipo avremmo comunque materiale per fare un ottimo mix perché con un gain di questo tipo adesso io sto registrando e sono comunque a meno 18 decibel in picco ne ho tanto ne ho tanto perché poi quando andremo ad aggiungere tracce su tracce su tracce comunque io quando devo mai sforare lo zero io consiglio di stare sempre per meno 4 e meno 8 senza toccare toccare la traccia stereo out e di segnale ne avremo molto già con questo punto di partenza che io oltretutto non sapevo nelle mie premi produzioni il gain staging ve lo potete tranquillamente scordare scordatevi sto termine basta parlarne insomma è la cosa anzi mettiamo di nuovo il mio file audio qua l'equalizzazione adesso io sto registrando l'equalizzazione se io faccio doppio clic su eq o in automatico ho aperto il mio equalizzatore logic ha due bande passanti filo passante passa basso e poi ho sei bande che mi permettono di enfatizzare delle frequenze o abbassarle e cambiarci la curvatura ci sono diversi tipi di equalizzatori se io vado qua su eq c'ho mai c'è più singole band eq c'ho il vintage eq che sono molto carini io adesso non voglio spiegarvi come si regola un equalizzatore adesso voglio togliervi una pipa di mentale pipa mentale va prima l'equalizzatore o prima il compressore il compressore si può abilitare qua eccolo qua in realtà logic ne ha sette di compressori sono tutti molto molto buoni io come sono fatto anche una lista di quello che rappresentano ad esempio il fat è un fair child 6 670 andiamo a vedere cos'è il fair child 670 e sta roba qua eccolo qua il classic vc a è un anzi facciamo così il sì il fat 1176 ln e è questa roba qua e quindi e così facendoli li possiamo vedere tutti suonano molto bene questi compressori di logic non andiamo per forza di cosa andare a prendere quei little se parti perché logica di roba ne ha tanta se non sapete né leggere né scrivere quindi non avete mai utilizzato compressore partite da un fattore compressione quadro quindi una reti o quadro e poi muovete la lancetta fin quando non vedete che vi serve comprivere questi qua le prime due manopole che dovete imparare magari poi faremo anche un video opposta per il compressore ma ma anche qua il compressore è lo strumento più utilizzato e meno capitolo perché si mette dappertutto se ne parla tanto ma il compressore serve a diminuire la dinamica e a volte a colorare il suono in base alla circuiteria attraversata da questo suono sì io io posso anche mettere un compressore a ratio 1 soltanto perché mi interessa il calore che ha questo tipo di compressore al passaggio del suono ci sono persone che dicono sapete quel cantante famoso so che non canta bene perché in studio ha utilizzato due compressori ma che ne sai come li ha regolati questi compressori quindi anche qua sono tutte malinformazioni e poi va prima il compressore prima l'equalizzatore ma io dico ma dipende dipende cosa vuoi ottenere andiamo a vedere qua dei suoni poi kick questo soft kick qua adesso io sto registrando ha un equalizzatore e poi un compressore stiamo parlando di preset di logic questo soft kick ha un compressore e poi un equalizzatore dipende cosa volete ottenere volete comprimere un suono che avete equalizzato bene volete equalizzare un suono che è stato compresso bene volete utilizzare una compressione in parallelo per schiacciare ancora una due tracce che ho compresso cioè fidatevi delle vostre orecchie un giorno andai ad una lezione a un dj molto famoso che aveva prodotto una traccia che suonava molto bene e avevo molta confidenza con lui un giorno andai da lui mi aprì sta traccia di logic dove c'era una una voce mi chiesi di guardare cosa aveva fatto e aveva messo cinque riverberi cinque riverberi ma è sbagliatissimo mettere cinque riverberi cioè io non metto una voce nel cesso un'altra in un garage poi un'altra in una galleria e lui mi fa e lo so ma togli un riverbero per volta io ho tolto un riverbero per volta mi fa suona diverso sì allora ragione io perché se suona bene ho ragione io quindi se suona bene avete ragione voi una cosa che ho imparato in questi anni è che la teoria va bene ma a un certo punto se diventa un limite non va più bene i migliori artisti che conosco o che ascolto sono dei grandi sperimentatori e sono sono incredibili in tecnica che una volta raffinate diventano personali cioè c'è gente che che mixa a più 10 c'è gente che masterizza di agli rms pazzeschi la logica dice che non va fatto poi se guardate i grandi fonici scoprite che che ci provano provano a far cose pensiamo all'autotune di cern nel 98 c'è sto fonico che provano a regolare l'autotune in una maniera pazzesca e c'è disse alla produzione che non voleva pubblicare la canzone con quell'effetto se non dovete passare sopra il mio cadavere io voglio la canzone con quell'effetto e da lì nacque la storia dell'autotune se voi date il vostro brano a mixare 10 fonici 10 fonici vi davano 10 mix diversi abbiate il coraggio di osare quindi finisco il pippone il consiglio che vi do è provate va bene studiare ma un certo punto dovete provare e smettete di ascoltare tutti ascoltate soltanto le vostre orecchie non ascoltate nessuno nemmeno me cioè date non date nulla per scontato piantatela di leggere cose al limite leggetevi manuali istruzione che quello va sempre bene ma tutto il resto sono solo opinioni di persone che si sono fatte esperienza e l'esperienza si ottiene soltanto con una cosa col tempo buona giornata ciao ciao a tutti